Oggi il protagonista è LG G Flex 2 Cari amici tecno scimiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro Unboxing velocissimo LG G Flex 2 finalmente in caso a tecno scimiati Lo vedremo in maniera approfondita nei prossimi giorni Andiamo rapidamente ad aprirlo tutti insieme Scatola molto psichedelica Vedete questo effetto a spirale Che poi non è spirale ma sono tutti cerchi concentrici Molto particolare Coperchio tagliato sotto a ricordare la curvatura del Flex All'interno della scatola abbiamo LG Flex Come potete vedere per colpa di qualche pseudo collega Che ha avuto la brillante idea di non tenerlo benissimo È leggermente segnato in alto a sinistra ma poco importa A noi ci interessa vedere come funziona E manca il caricabatterie Sempre perché il simpatico collega si vede che non aveva un caricabatterie Con cui caricarsi il suo telefonino E ha pensato bene di tenersi quello che ci mandano insieme ai terminali Abbiamo poi le cuffie in ear Queste invece si vede che non gli piacevano E ce le ha lasciate Molto belle con cavo flat E retro in finto alluminio zigrinato Effetto alluminio zigrinato Molto particolare e molto bello Gommini di ricambio Dunque vi ricordo Rimarrà con noi alcuni giorni Come al solito non vi aspettate la recensione domani o dopo Perché da noi non funziona così I terminali li proviamo in maniera approfondita Se avete domande di qualsiasi tipo Potete porcele O direttamente Nei commenti dell'articolo O nei commenti del video O su twitter O su facebook Dove volete Io rispondo sempre E a tutti Quindi Non fatevi problemi Siamo sempre a vostra completa disposizione Vi ricordo Per rimanere aggiornati Ed avere tutti gli ultimi video Che carichiamo Di iscrivervi sul nostro canale Importantissimo Rimanete sintonizzati A breve Ne vedrete delle belle Grazie